Maria, mi dispiace perché lei sembra molto gentile, molto corretta, però io il suo giornale non posso rispondere. Non posso rispondere perché io ho detto dopo la partita di Torino che ci mancavano 13 giocatori rispetto alla finale di Dublino, che era l'esplorato di Gampiero Gasperini. Andiamo da 3 a 20 allora perché vogliamo sapere come sta l'Inter, soprattutto i tifosi dell'Inter vogliamo sapere anche noi. Insomma Sky ha glissato perché Gampiero Gasperini stava per rispondere del merito all'attacco ricevuto dal Corriere della Sera, dal Corriere di Bergamo, firmato da Marina Belotti o comunque dal suo giornale. Da un lato per non... Ecco perché Gasperini ha indossato gli occhiali, ecco perché avrebbe letto gli appunti, insomma. Avrebbe letto, lui appunto diceva che rispetto a Dublino mancavano 13 giocatori di movimento. Grazie.